Musica Mercoledì 28 di giugno, bentornati. L'informazione di Senigallia Web TV, l'aggiornamento delle notizie. Incidente sotto la galleria del Barcaglione, tre feriti in ospedale, tra cui una donna residente a Senigallia, soccorsa dalla cruce gialla. La signora è stata trasportata ad emergenza in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Gli altri sono stati soccorsi dalla Croce Rossa, sul posto per tutti i coinvolti, anche l'automedica. La protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse, valido per tutte le marche, fino alle ore 24 del 29 di giugno. L'avviso prevede venti da sud-ovest fino a 75 km all'ora, deboli precipitazioni e mare agitato. A luglio torna il labirinto di Hort, l'attesissimo labirinto di Mais di Senigallia, progetto ludico-educativo patrocinato dal Comune di Senigallia e realizzato dalla società cooperativa Hort, diventato ormai un appuntamento fisso dell'estate senigalliese. Siamo in partenza con la nuova edizione del labirinto, il quinto che realizziamo a Senigallia, il labirinto di Hort. Un progetto sempre più ambizioso, sia per la superficie dei percorsi, la lunghezza dei percorsi, sia per gli eventi che proponiamo. Quest'anno il labirinto sarà dedicato alla radio, al tema della radio. Ci ispiriamo a questo tema, ecco così, a noi molto caro e abbiamo sicuramente pensato un calendario di eventi molto ricco. Quindi ci saranno grandi novità quest'anno, oltre agli eventi, diciamo, a cui i nostri visitatori sono affezionati, dai sentieri di paura, Alice nel Paese delle Meraviglie, una grande novità per quanto riguarda il mondo delle fiabe con il mago di Oz e tre giorni dedicati ai dinosauri che saranno dopo Ferragosto, quindi con la presenza di dinosauri e anche Flintstones nel labirinto, diciamo, quindi una stagione che si preannuncia molto intensa e molto ricca. Cambiamo pagina, è iniziato il conto alla rovescia per la realizzazione del nuovo ingresso al quartiere della Cesanella con la progettazione della rotatoria di accesso e di un parcheggio a servizio del lungomare e dei residenti. Nell'ultima seduta, infatti, la Giunta Comunale ha approvato la variante al piano particolareggiato del parco che apre l'iter finalizzato alla riqualificazione di Piazzale Michelangelo e dell'intera area in entrata di uno dei quartieri più popolosi della città. Spazio a rendere, l'arte torna in vetrina. Comfcommercio lancia la seconda edizione del progetto artistico, culturale e commerciale nato a Senigallia con l'obiettivo di sperimentare una nuova forma di evento cittadino. L'intento è quello di creare un laboratorio dedicato alle nuove forme artistiche contemporanee, promuovendo una nuova modalità di valorizzazione del territorio e realizzando nel cuore della città una rete di eventi artistici che coinvolgano il tessuto cittadino. Il gruppo Mastrucci di Barbara dell'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini venerdì 30 alle 21.30 in Piazza Cavour presenta uno spettacolo di danza nel ventre offerto dall'insegnante Monica Leghissa e dalle allievi della scuola Mommies Dancer di Senigallia. L'esibizione di decine di ballerine avrà ingresso gratuito. Seconda edizione del trofeo Balducci, organizzato dalla ASD Senigallia Skating, svolto venerdì 23 e sabato 24 giugno in Piazza Garibaldi a Senigallia, ha riscosso un grande successo. Sono stati ben 114 giovani atleti iscritti che sono arrivati a Senigallia per partecipare alla competizione inserita nel prestigioso circuito nazionale Challenge Centro Italia. Gli arrivi sono stati oltre ogni fiorosa previsione, visto che abbiamo aumentato di 15 unità i numeri dello scorso anno, che per solamente due categorie è un successo sotto tutti i punti di vista. Francamente la gioia è stata sì, ovviamente quella di avere tanti agonisti provenienti da tutto il centro Italia con una presenza anche dalla Puglia, ma sicuramente l'evento ha dato il suo volto migliore alla nostra piazza con la presenza di bambini disabili che hanno partecipato al progetto del CONI 2017. C'è stato sicuramente tantissimo divertimento anche nella prima giornata dove l'agonismo si è sentito di meno perché è stata la prima giornata dedicata esclusivamente ai non agonisti, quindi ai piccoletti principianti dei nostri corsi invernali. Ovviamente il tanto agognato percorso per i nostri bambini speciali del progetto CONI che sono stati poi premiati direttamente dal nostro sindaco e dalla vicepresidente del Panatron presente è assolutamente appoggiato a braccia aperte questo nostro percorso e poi abbiamo fatto nella prima giornata una gara di staffetta che è una gara che ancora i piccolini non fanno ma è assolutamente divertente per loro. In conclusione le condizioni del tempo di giovedì 29 sulle Marche, cielo generalmente sereno o assai terzo, precipitazioni assenti, i venti moderati di libeccio, in crollo le temperature, previsioni elaborate da Assam. Grazie per essere stati con noi anche in questa edizione, vi aspetto per la prossima.